Salutiamo i nostri amici. I amici telespettatori oggi parliamo di turismo salutare, turismo salutare in montagna. Vediamo i nostri ospiti con noi Franco Mattiussi che è vicepresidente della provincia di Udine e Daniele Spizzo che è presidente della cooperativa Cramar, che fa parte, che è uno dei soci della cooperativa Cramar, amministratore, così diamo il ruolo giusto. Vi saluto, buongiorno, grazie per essere qui con noi. Poi avremo anche altri ospiti per entrare in ulteriori approfondimenti e particolarità. Intanto partiamo da questo progetto che è Interreg Italia, Austria e che in Italia coinvolge anche il Trentino. Il Trentino è sul Tirolo, diciamo, la provincia di Bolzano con due associazioni del territorio. Poi abbiamo il Salisburgese con due università, l'università che è lead partner, quindi l'università Paracelsus di Salisburgo che ci dà il supporto scientifico a questo progetto. Ecco Mattiussi, parliamo di questo turismo salutare, un concetto nuovo che deve essere valorizzato e serve per valorizzare un intero comparto. Che non è solo wellness, ma va ad acquisire, supportato dalle evidenze scientifiche, quanto bene fa il turismo fare una vacanza in inverno in un'area sufficientemente alta. Ma non altissima, ma di alta quota, è le opportunità salutari che dà questo turismo. Quindi al di là delle sciate, al di là del bel ambiente e della gastronomia, si guadagna senz'altro andando in montagna. In salute le allergie vengono meno, le asme si rallentano e poi si guadagna nell'articolazione. Il rischio di allergie lo ha dimostrato anche il dottor Canciani andando a cave, nelle grotte, andando su a fusine, proprio per quanto riguarda l'asma che ha coinvolto l'associazione Alpi. Si, si, ci sono già appunto numerosi esempi importanti che sostengono questa nostra progettualità. Ma comunque adesso parliamo di Carnia perché io ho nominato fusine, cave, ma non c'entra questo progetto. E' il compresorio dello Zoncolan, con Arta Terme, con le sue fonti che devono essere valorizzate in qualche modo e magari rilanciate. È un compresorio dove c'è già una buona offerta turistica per quanto riguarda gli alberghi e non solo, che hanno anche belle dotazioni e sono strutture d'eccellenza, ma noi riteniamo che debba essere valorizzato un intero compresorio e quindi l'opportunità che ci viene offerto con questo Interreg Italia-Austria, noi l'abbiamo colta subito al volo come provincia, anche perché rientra nella filosofia e nella strategia dello sviluppo turistico nel nostro territorio e della linea guida che la provincia si è voluta dare fino dal 2008. Quindi abbiamo partecipato, abbiamo preso un… Ecco qui vediamo alcune slide che riguardano proprio il progetto. Ecco, abbiamo avuto le risorse, ci sono state affidate circa 185 mila euro di risorse finanziarie che verranno utilizzate e investite per promuovere questo bel territorio che noi abbiamo a disposizione, ricchissimo di cultura, di tradizione, di gastronomia e anche di particolarità che spesso vengono messe in secondo piano. Ecco, vediamo nelle slide, così coinvolgiamo anche Daniel Spizzo, perché proprio Cramars ha eseguito un'indagine, una sorta di indagine, di mercato e anche indagini coinvolgendo gli austriaci per quanto riguarda la salute, no? Ecco, quindi noi siamo stati coinvolti dalla provincia per raccogliere i primi questionari in tre comuni, quindi abbiamo lavorato essenzialmente su Arte Terme, su Ravaschietto e su Sutro, per indagare intanto quali sono le motivazioni essenziali che spingono i nostri turisti che arrivano in montagna anche a percorrere percorsi di tipo salutare, cercando poi di capire se c'era anche un interesse di prenotare delle vacanze all'insegna del turismo salutare. Per cui abbiamo raccolto un po' le informazioni sempre su indicazioni, diciamo così, dei nostri lead partner, che era appunto il Paracelsus di Salisburgo. E abbiamo fatto un rilievo a 360 gradi, quindi non è soltanto la solita indagine sul turismo wellness, cosiddetto, anche perché ormai il mondo tedesco... Ecco, ci vuole magari, mentre scorrono le immagini, anche fare qualche riferimento, no? Sì, quindi il loro obiettivo innanzitutto era quello di mappare le proprietà, diciamo così anche da un punto di vista di analisi medica, dei vantaggi che si possono trarre percorrendo alcuni sentieri nell'area, quindi qui siamo su Ravascleto, alcuni sentieri che loro hanno visitato, hanno misurato alcuni dati sull'inquinamento atmosferico, sulla presenza di ioni positivi o negativi, per capire appunto se c'erano dei presupposti di base per favorire la cura o comunque il benessere, la salute, per alcuni turisti che tipicamente frequentano i nostri territori, che sono territori non altamente antropizzati. Ecco, anche questo è un esempio, no? Quindi quante calorie si consumano, anche per... Quante calorie si consumano, ti può far bene, ti aiuta magari a recuperare o a star meglio dal punto di vista della tua salute, e quindi sono dati, diciamo così, raccolti in modo abbastanza puntuale sui vari punti del sentiero che vedete qua, e quindi lo offrono poi alla fine anche direttamente al turista come informazione base per fornirgli una serie di elementi che magari nel suo caso potrebbero essere interessanti per prenotare una vacanza da questo punto di vista. Risultati. Risultati. Perché gli austriaci che cosa hanno riscontrato? Perché è molto importante anche dal punto di vista del benessere, no? Allora... È molto importante il parere... Alla base di tutto ci sta un'analisi di mercato su quattro aree, quindi la carne è in questo caso quello che interessa di più a noi. Poi c'è il tirolo austriaco, il landesalisburgo e il zittirolo. Quindi sono aree che dal punto di vista dell'analisi di mercato hanno già riscontrato che il turista... Ha tanto da insegnarci dal punto di vista turistico. Però anche noi abbiamo tanto da insegnare e chiaramente questi progetti europei, quindi la provincia sicuramente in questo caso lo sa benissimo perché abbiamo lavorato insieme su vari progetti, anche in questo caso per esempio su l'outourism tanti anni fa, il mettersi assieme è proprio per scambiarci dei dati chiavi dal punto di vista proprio anche dell'analisi del mercato. In questo caso emerge chiaramente che oggigiorno i nuovi turisti che vanno alla ricerca di questo turismo salutare ricercano che cosa? Innanzitutto vogliono vedere la natura come quasi un medicinale, una medicina che ti aiuta a curare. Quindi tutto ciò che è outdoor, esterno, è chiaramente deve essere in qualche modo presentato e declinato in chiave, diciamo così, di dati che ti dimostrano che se vieni lì stai meglio. Ecco qua per la gioia del dottor Canciani. Ecco, quindi il profilo di infiammibilità, malattie delle vie esperiatorie, energie. Quindi ci sono dei dati per quei turisti che sentono di dover appunto approfittare delle proprie vacanze per curarsi o non solo per curarsi, anche per prevenire un male. Certo. E quindi qui tu trovi dei dati che ti dimostrano effettivamente che se vai in questi luoghi effettivamente puoi star meglio. Ecco, guarda, guarda, depressione, umore, stress. Ecco, come vedete si va da malattie che magari sono legate alla tradizionale offerta wellness, delle terme che anche su da noi ci sono, ma ci sono in Austria, lo sappiamo benissimo, a mali più di natura legate allo stress, alla depressione. Quindi salute, come vedete, declinata in 360 gradi. Ed è quello che oggi giorno il mercato globale del wellness, cosiddetto, chiede mirato su certe destinazioni. Ecco, quindi loro, Paracelos, lavora soprattutto su questi dati qua, li presenta, li raccoglie. E poi ci chiede però, questa è l'offerta del territorio, che soffriamo di buono? Ma la domanda del turista, poi alla fine, può essere, come dire, incrociata con questa offerta. Per cui noi, la nostra prima ricognizione che è stata pionieristica, nel senso che abbiamo lavorato a fine estate, per capire intanto su quanti dei nostri turisti presenti in estate, a fine estate sarebbero interessati poi a svolgere anche una vacanza, all'insegno della salute in inverno, e sono emersi appunto anche questo. Certo, a livello di offerta indoor cercano ancora le strutture di benessere tradizionali, quindi l'albergo con le terme, con i servizi wellness, ma poi la natura diventa fondamentale. L'aria pulita, la natura autentica, il potere percorre sentieri autentici, ben tenuti sicuramente, e quindi sono una serie di servizi che poi loro vanno a cercare. E poi lì potrebbe essere anche un piccolo sbocco occupazionale per i nostri laureati, no Matius? Senza dubbio ci sarebbe l'opportunità appunto di formare delle guide turistiche, guide escursionistiche che appunto accompagnano i turisti nelle loro escursioni. Abbiamo lo studio, no professore, che dice che nove giorni di vacanza attiva dà benefici nei 240 giorni successivi, quindi questo è quanto si potrebbe acquisire facendo una vacanza presso di noi nella stagione invernale, sciando ma anche godendo di un ambiente pulito. Le polvere sottili in montagna è difficile trovare. Noi abbiamo le città che in questi periodi abbiamo sentito fino a prima delle piogge che erano diventate off limits oppure avevano chiuso il traffico delle auto, invece in montagna ci si purifica. Quindi l'offerta che dovranno fare coloro che vorranno avviare attività imprenditoriali o che stanno portando avanti attività imprenditoriali devono andare anche nel senso della salute, non soltanto per venire a godere delle nostre magnifiche piste di sci sullo Zoncolan piuttosto che Lussari o quante altre, adesso sopada, quindi potranno beneficiare anche di tutto quello che c'è sul nostro territorio. Noi andando a visitare, perché abbiamo visitato prima di aderire a questo progetto siamo andati a visitare le strutture nei poli e abbiamo scoperto delle eccellenze, eccellenze che non sappiamo di avere, delle palestre, dei centri di… Che è giusto valorizzare. Ma certamente. Ma per valorizzarle c'è bisogno di un progetto, di metterle in rete, di farle conoscere, questa è la difficoltà più grande. L'obiettivo è quello di dire agli operatori lavorate assieme, lavorate assieme perché l'opportunità ve la diamo, vi diamo pochi soldi, ma poco è meglio che niente, e quindi andate avanti. Quindi adesso, indagini, visto che ci sono tutte queste possibilità, quando si avvia effettivamente il progetto. Allora, il momento chiave, no, nella sequenza delle attività previste, una volta completata l'indagine di mercato, per capire bene quali sono i bisogni anche dei nostri turisti d'inverno che arrivano qua, poi si tratterà appunto, in vista di creare nuove opportunità, perché noi ci teniamo tantissimo, quindi è quella di avviare una serie di laboratori, di progettazione di nuovi pacchetti e servizi che appunto raccolgano tutte le informazioni più utili anche dai nostri partner per essere un po' più competitivi su questo mercato. E quindi la sfida è innanzitutto valorizzare quegli attori che sono particolarmente attivi, che hanno già creato delle reti sul nostro territorio, ce ne sono tanti, li abbiamo elencati, ma chiaramente adesso il nostro interesse è quello di ampliare ancora di più la rete. Analisi, dopo l'analisi bisogna passare ai fatti. Animazione sul territorio, vero e proprio. E poi l'altro obiettivo è quello di creare, di attraverare magari anche nuovi abitanti, nuovi imprenditori, giovani, laureati e non solo, che trovano magari anche un interesse forte, partendo dalle loro passioni, dai loro studi, nel attivarsi in un settore che è nuovo, perché poi il mercato globale effettivamente, del wellness inteso in senso salutistico, ci offre grandi opportunità per il futuro. E noi ci siamo da questo punto di vista. Ecco, visto che siamo, dobbiamo fare subito una piccola pausa, riusciamo, Assessore Mattiussi, Vicepresidente Mattiussi, anche a parlare, dare qualche dato sul turismo della montagna. Ne ha a disposizione? Beh, i dati sono quelli di turismo FWG. Abbiamo visto prima che le presenze nel compresorio si stanno aumentando, sono circa 130 mila, se non sbaglio, in un anno. Quindi un buon numero, ma non sufficiente, senz'altro per dire che abbiamo un'economia turistica florida. Dobbiamo investire di più e dobbiamo crederci. Ci sono molti imprenditori, quelli che verranno dopo, sono tra quelli che ci hanno creduto, che hanno investito, ma questa è la strada su cui dovranno proseguire, altrimenti gli investimenti saranno inutili. Certo, chiusura della provincia, l'eredità viene raccolta, abbiamo detto, da Innova. Da Innova, che è già un partner associato del progetto e quindi adesso proseguirà su quello che noi abbiamo tracciato. Bene, noi andiamo in pausa, salutiamo Daniele Spizzo e salutiamo Franco Mattiussi. Grazie per essere stati qui con noi. Grazie a voi. Piccola pausa, a fra poco. Ed eccoci nuovamente in studio, continuiamo a parlare di turismo salutare, turismo salutare con Loretta Romanin, che è presidente della cooperativa Taviele, quindi per i prodotti a base di erbe officinali, e Sara Polo, dell'hotel La Perla di Ravascletto. Buongiorno. Sara ha avuto il coraggio di trasformare anni fa il suo albergo, la sua attività, creando questa zona wellness, proprio per venire incontro alle necessità e alle richieste dei turisti. Sicuramente. Altrimenti fuggono, vanno in Austria. E quindi ha detto, meglio tenerli qua, far di tutto per tenerli qui. In realtà avevamo già un piccolo centro benessere, ma era insufficiente, per cui abbiamo investito, l'abbiamo ampliato, ed è risultato abbastanza carino, secondo me. Solo che al centro benessere bisogna aggiungere anche tante altre cose, perché bisogna unire, ad esempio, le passeggiate, bisogna unire una preparazione anche culinaria, perché cerchiamo di offrire una cucina leggera che si unisca un po' al benessere. Quindi ben si sposa nell'ambito di questo progetto Interreg. Sicuro. Avete puntato su tutto. Ma poi, anche quello che è curioso, il fatto che voi usiate le erbe officinali, anche per i massaggi. Sicuro. Ecco, quindi gli oli essenziali. Avete puntato sulla cooperativa Lataviele. Parliamo proprio di questa cooperativa, come lavora sul territorio, poi essendo cooperativa sociale, dà delle opportunità importanti per chi vive in montagna. Certo, certo. Infatti noi siamo una cooperativa sociale agricola, ed è un po' una particolarità, diciamo, perché coltiviamo le erbe officinali a Cercivento e in più abbiamo questa valenza sociale che fa sì che persone con diverso svantaggio fisico-psichico possano collaborare con noi, anche perché il lavorare all'aria aperta, i profumi che comunque sprigionano queste erbe, i colori, fanno sì che sia un benessere a 360 gradi, proprio perché fa bene comunque alla mente, allo spirito, insomma, no? Anche. Le erbe officinali poi sono una... È una caratteristica di sud della zona, no? Certo, certo. Ogni piccola valle ci sono, no, determinate erbe, ormai risaputo, ci sono tanti studi. Certo, poi a Cercivento c'era questa... Ma è bello, è, di valorizzare, insomma, queste peculiarità. Ma a Cercivento c'era questa, anche anticamente, questa tradizione erboristica, proprio anche con la trasformazione delle erbe officinali. Quindi, questa è una riscoperta. Proprio alcune slide che riguardano la nostra attività. Ecco, quella è la fior d'aliso, questa qui è la malva, le officinali per eccellenza, diciamo. Questa è la monarda, vedete che fiore particolare. Vediamo se ce la lascio ancora un attimo, perché mi piacerebbe, approfittando del fatto di averla qui in studio, anche mi piacerebbe riuscire a parlare delle peculiarità, delle proprietà che hanno queste piante. Ma certamente, perché poi ogni pianta ha la sua particolarità. Ecco, questa stavamo, vediamo se diciamo. Ecco, la monarda è una pianta aromatica. Noi utilizziamo i fiori anche negli infusi, perché comunque sono belli. Anche in questo senso, il prendere un infuso, oltre al bene che può fare, proprio fisicamente, anche la bellezza, come ci vuole, è necessario, no? Vedere anche l'infuso bello colorato, fa sì che uno lo prende molto volentieri. In voglia. Poi, non so, anche la malva, viene anche un infuso violetto, che è uno splendore. Poi, la malva è anche rinfrescante. È bella. Penso che anche la signora Sara, nelle decorazioni dei piatti, i colori splendidi dei fiori o delle piante, si possano vedere, riscoprire, insomma. Ecco, sentiamo proprio Sara, no? Che sta puntando sui prodotti locali. Sì. Ecco, quindi che cosa sta riscoprendo? Che cosa ha trovato? C'è apprezzamento da parte del turista, che si ritrova appunto a consumare? Sicuramente c'è apprezzamento. Curiosità, sicuro. No? Sì. Allora noi abbiamo notato che il turista che fa il weekend, il fine settimana, sta bene nel centro benessere e si rilassa così. Chi fa una villaggiatura più lunga, un periodo settimanale, diciamo, è proprio la ricerca di questo contatto con la natura, con le erbe, le passeggiate proprio per la conoscenza di queste nostre piante che si trovano spontanee quasi fuori dalla porta e quindi si organizzano queste piccole uscite. Ecco, quindi questa è la passeggiata, mi spiegava la passeggiata alternativa. Sicuro. Non è la passeggiata difficoltosa, adatta a tutti e quindi si va alla riscoperta della... Della natura. Della natura. Sì. E poi abbiamo un percorso, diciamo, abbastanza semplice che dà la possibilità di camminare a tutti perché non tutte le persone vanno in alta montagna o nelle malghe. E abbiamo anche una fonte di acqua buonissima, a Salars, che io la chiamo la fonte di lunga vita perché c'è questo fontanile con l'acqua che sgorga, così naturale. Ed è... Che particolarità ha questa? È fresca. Ah, solo è fresca? È fresca? Non l'avete analizzato? È fresca? Non l'abbiamo ancora analizzato. Non è una fonte... Cioè... Simbolicamente... Perché per le persone che arrivano dalla città trovare un fontanile così bello con quest'acqua che canta è veramente invitante. È bella, no? Come immagine. Loretta, parliamo anche della cooperativa, come sta lavorando? Poi scendiamo anche nell'aspetto delle piante officine... No, nelle piante per la Cosmesi, no? Certo, certo. Beh, la nostra cooperativa, proprio anche per questa sua valenza sociale, noi collaboriamo... Quante persone coinvolge? Sì, sì, sì. Beh, siamo 6-7 soci. Alla fine c'è chi con diverso valore rientra, insomma, tra i soci, perché siamo sia... Ci sono dei soci volontari, ci sono dei soci lavoratori. Noi abbiamo un ragazzo con un minimo svantaggio. Collaboriamo anche con le ASL, con altri enti, tramite le borse lavoro, quindi anche delle altre persone della zona vengono a lavorare da noi, che è un lavoro anche abbastanza semplice, nel senso che molto facciamo noi a mano. Quindi anche la raccolta dei fiori sono fatti a mano e tutto. Quindi è un lavoro semplice che allo stesso tempo, come dicevo prima, fa sì che aiuta veramente anche nella semplicità la tranquillità delle persone e anche a poter avere un piccolo aiuto loro e fare un lavoro che possa essere fattibile anche chi ha un po' di difficoltà, mettiamola così. Ma è vero che lavorate anche i campi di persone che non sono a lavorare lì? Anzi, avete bisogno, avete fame di terreno? Ecco, beh, i campi che noi coltiviamo ci vengono dati in comodato gratuito dalle persone che una volta li coltivavano e che adesso per vari motivi non vengono più coltivati, quindi noi, diciamo, li teniamo puliti. E questo è anche un bene perché comunque nella zona vicino al comune, a Cercivento, abbiamo questo piano che infatti si chiama, è la via Taviele, da cui viene il nome della nostra cooperativa proprio perché è la zona pianeggiante che è in montagna fa sì che sia fattibile fare una coltivazione semplice senza grandi difficoltà. e in più, volevo dire al fatto che mi chiedeva lei prima della parte cosmetica, anche in quel senso, anche lì ogni pianta ha la sua particolarità, quindi fa sì che ogni prodotto poi sia particolare proprio per le erbe che ci sono all'interno. Quella è una lavorazione che, diciamo, noi mandiamo le nostre erbe a una cooperativa Padova che fa la trasformazione perché è una lavorazione un po' impegnativa, diciamo, per noi. Quindi cosa fa anche creme oltre a oli essenziali che servono a Sara? Sì, 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 sì. Ma infatti la collaborazione anche con Sara è data dal fatto che lei tiene i nostri prodotti nel suo albergo sia per il centro benessere che poi anche eventualmente se uno ha il piacere di acquistare, però proprio per fare conoscere queste particolarità del nostro territorio, no? Per far conoscere queste piccole cose semplici che magari a uno che viene in vacanza ha proprio il piacere di venire a conoscere. Noi, anzi... Che tipo di clientela arriva, Sara? Ma in genere abbiamo... Di tutte le età? Di tutte le età? Non avete... Non c'è un target preciso? No, abbiamo le famiglie e abbiamo molte coppie che vengono... Poi abbiamo anche, diciamo, acquisito per fortuna una clientela B2E sia d'estate che d'inverno e quindi ci tariamo un po' su queste... Adesso c'è neve su? C'è neve, bellissimo. Aspettiamo quella nuova dopo questi due giorni così non proprio, diciamo, un po' sciroccosi aspettiamo la nuova neve. Che mi dice degli oli e dei cosmetici? Ma vedo che sono gradevoli e sono anche particolari perché ad esempio la crema all'arnica è il prodotto che viene richiesto di più perché è lenittiva e perché comunque c'è una tradizione su questa arnica. Eh, vogliamo un po' ricordare questa tradizione della crema all'arnica con l'oretta visto che, no? Parliamo di questa tradizione dell'arnica? Infatti, infatti, come dicevamo prima, no? All'arnica, noi abbiamo una crema all'arnica artiglio del diavolo sono due antifiammatori naturali quindi fa sì che si possa trovare il sollievo dal mal di schiena dal dolore alla cervicale da dolori reumatici e fa sì che anche essendo un prodotto naturale non ha quelle controindicazioni quegli effetti collaterali che può avere un qualsiasi medicinale sempre restando sul fatto che il prodotto naturale arriva fino a un certo punto logico che poi avendo delle difficoltà maggiori uno deve ricorrere alla medicina naturale alla medicina classica però se si può con i prodotti naturali alleviare queste difficoltà un'altra cosa pianta stupenda è la calendula anche noi abbiamo un guento alla calendula la calendula c'è nella crema per le mani sempre perché è proprio molto lenitiva toglie le rossamenti aiuta anche un po' cicatrizzante quindi vedete si trovano delle cose dei rimedi anche semplici che però veramente sono molto utili e abbiamo trovato degli ottimi risconti anche dei nostri clienti che sono venuti comunque a tornarci a dire ci siamo trovati bene ecco Sara mancano pochi secondi al termine della trasmissione quanto coraggio ci vuole investire in montagna? abbastanza e bisogna credere credere nel loro lavoro nel proprio lavoro e tramandare ai figli questo entusiasmo e quanto è difficile creare una rete anche fra di voi la rete è un po' difficile perché sappiamo che l'ambiente stesso sappiamo tutti i limiti che abbiamo ma io ci credo ancora e fin quando mi piace andrò avanti bene grazie grazie a voi grazie a Sara Polo e grazie anche a Loretta Romanina e noi vi aspettiamo a cercivente a provare le vostre assolutamente i prodotti creati appunto con le vostre erbe grazie per essere stati con noi grazie ai nostri amici telespettatori e noi con la rubrica family dedicata al benessere ci vediamo giovedì prossimo sempre alla stessa ora arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti